Ragazzi, allora, buona giornata a tutti, io di solito per la Coppa Italia non faccio video del giorno dopo, anche perché insomma la Coppa Italia non è che mi interessa più tanto, sapete benissimo, è una competizione che comunque bisogna giocare, però al di là di questo non è che sia chissà che competizione, però al di là di questo, ripeto, questo video qua non vuole essere tanto un giorno dopo quanto la situazione attuale di Allegri, della Juventus e di molti tifosi. Allora, innanzitutto voglio precisare due discorsi su Morata e Vlaovic, allora Vlaovic su Vlaovic non voglio ovviamente sminuire il giocatore, io sapevo benissimo quando prima che arrivasse la Juventus i suoi limiti già alla Fiorentina, quando dicevo e dubitavo diciamo anche della cifra spesa per lui a livello sia di ingaggio sia di cartellino, è un dubbio secondo me leciti perché comunque per chi ha visto Vlaovic alla Fiorentina sa benissimo che non è un giocatore che ti pulisce i palloni, quando dicevo non è un attaccante completo, ma questo non significa che magari non lo diventerà io lo spero con la Juventus, anche se ho molti dubbi, ok? Io continuo ad avere molti dubbi che mi diventi quel tipo di attaccante lì, ok? Perché per me non è quell'attaccante alla Higuain che è bravo tecnicamente ed è bravo anche a finalizzare. E' bravo a finalizzare sicuramente, ma per me non è un giocatore che ti pulisce tanti palloni, ok? Almeno fino ad ora, speriamo che migliori, però secondo me quelle doti là o ce le hai o non ce le hai. Io sono incazzato soprattutto con l'esaltazione per Vlaovic perché fa male allo stesso ragazzo di fatto. Ad esempio di Vlaovic a me cos'è che piace? L'esultanza sua, cioè quella genuina, qui ha ragione di canio, ma io mi sono sempre battuto su queste esultanze qua, cioè preferisco le esultanze così, a me piaceva Inzaghi perché esultava spontaneamente, Trezeghe perché non vedeva l'ora di segnare per esultare e sfogarsi così invece che fai le esultanze tutte costruite ormai per sponsor, merchandising e quant'altro perché ormai fanno tutto per questo. Quindi di Vlaovic a me piace questo, a me piace sicuramente un po' di personalità l'ha dimostrata, umiltà l'ha dimostrata, voglia di far gruppo l'ha dimostrato sia in conferenza stampa sia in campo. Quindi questa cosa qui a me piace perché vedo anche con l'ingresso di Vlaovic, vedo anche Morata che magari quando sbaglia qualcosa, ieri l'ho visto esultare all'autogol, sulla bella giocata di Vlaovic anche qua parliamone perché qua sento dire che è stata una straordinaria giocata. È stata una buona giocata che ho visto fare anche a giocatori normalissimi, quindi non è che adesso sono... Muriel quante volte ha fatto una giocata del genere, con caratteristiche diverse rispetto a Vlaovic, ma quante giocate ha fatto così? Boga, faccio dei nomi qui in Italia dato che è un campionato di merda, almeno vi faccio capire che giocatori ci sono qui. Luis Alberto, stessa cosa, vari ruoli vi cito. Ok? Cioè ragazzi, anche lo stesso Lukaku, Lukaku non mi pare che sia sto fenomeno, no? Poi magari sbagliava il tiro, infatti Vlaovic ha sbagliato il tiro e non è stato deviato, ma giusto per farvi capire, no? Poi, ripeto, Vlaovic secondo me non è quel tipo di appunto giocatore che ti pulisce i palloni. Tant'è, tant'è che io poi ho alzato mezzo voto ad Elite, perché anche Elite hanno detto grandissima partita, non è che sia stato tantissimo impegnato, bisogna dire anche questo. A parte il primo tempo che però, diciamo, ci hanno preso pallonate, ma più per colpa, diciamo, della gestione di Allegri piuttosto che della difesa stessa, perché alla fine errori, Bonucci in uscita, ha sbagliato tantissimo, infatti è stato uno dei peggiori in campo, Elite non ne ha fatti. Quindi non è che, però per me, ho sentito 7, 8, 7, per me è stata una partita da 6 con i Elite, cioè, per carità, però salvataggi miracolosi. Ho alzato mezzo voto, ho dato 6, va bene, ma quella è stata una partita di Elite. Come su Morata, ho alzato mezzo voto, avevo dato 5, gli do 5 e mezzo e a Vlaovic gli ho dato 6 e mezzo. Ma perché, allora, ieri di Morata ho detto questo, allora ci sono state altre partite, anche in questa stagione qua, che ho detto Morata ha cambiato la partita individualmente, cioè lui l'ha cambiata, perché lui ha fatto molto bene. Ieri, secondo me, è entrato in un mood che c'era già, perché poi si dice che con un tempo abbiamo dominato, ma Allegri, ragazzi, il problema di Allegri è sempre quello. Il problema di Allegri è che, quando ha l'acqua alla gola, fa queste prestazioni, e dite, eh, ma aveva il pareggio, sì, stavamo pareggiando, non perdendo, ed è vero. Ma sapeva benissimo anche lui che ai supplementari era meglio non andare in vista di Bergamo. Per questo ho tentato in tutti i modi chiudere il secondo tempo. Perché non farlo prima? Perché cambiare modulo, eh, ma con gli interpreti, con questi interpreti, cosa vuoi che faccia? Tu metti, comunque, preferisco un 4-3-3 con quadrado più esterno, di bala più centrale, quindi magari, e secondo me ve lo dico qua, quadrado, con tutti i cross di merda che fa meglio spostarlo sulla sinistra, così va, eh, rientra e tira, che secondo me è più bravo a rientrare e tirare che a crossare, secondo me, ripeto, e di bala sul centro-sinistra, sotto, sotto la punta, no? Questo, eh, sì, ma è un tridente un po' strano, sì, preferisco così piuttosto che mettere quadrado ala, ok? E soprattutto McKennie ala, perché qua adesso ci sono, io ho fatto discussioni e non seguo più una pagina, perché purtroppo, purtroppo, c'è gente che fa finta di essere competente tatticamente, ma prende quelle immagini a livello tattico per darsi ragione da sola, praticamente, difendendo Allegri, perché McKennie ha fatto la mezzale e non ha fatto l'esterno attacco. Intanto, nessuno ha detto che ha fatto l'esterno attacco, McKennie ha fatto l'ale di centrocampo e questo è un dato di fatto, che poi lui abbia caratteristiche diverse rispetto, ad esempio, a quadrado, quindi, o un'ale di centrocampo in generale, diciamo, nello specifico, siamo d'accordo ed è per questo che poi si accentra in fase di possesso, ma in fase di non possesso, cos'è che ha fatto? Allora, chi mi dice che McKennie non ha fatto l'ale di centrocampo, evidentemente non si è guardato la partita né di ieri né contro Verona, perché contro Verona, centrocampo a tre, quello significa fare la mezzala, significa occupare la fase centrale del centrocampo, ok? O centrale, o centro-sinistra, o centro-destra, non sinistra, prima cosa. Seconda cosa, Allegri ha sempre detto che a sinistra non può giocare e lo continua a mettere a sinistra, in ala soprattutto, perché poi quando deve staccarsi in fase di possesso e passare quindi magari da fase di non possesso a transizione positiva, offensiva, quindi in fase di contropiede nostro, McKennie deve farci il culo tanto, perché non è neanche centrale, deve praticamente tagliare dall'ala al centro, infatti lui ha fatto, lui centralmente c'era, lui centralmente c'era, ma quando, dopo non so quanti secondi, perché comunque doveva aspettare che lui andasse in attacco, perché comunque devi fare più chilometri, più chilometri, più metri così, e ti stanchi di più facendo fase di non possesso davanti, fase di possesso, torni indietro di 60 metri. E poi, ad esempio, il secondo tempo c'è stato anche un, qua vi fa capire quanto poco lavori sul pressing Allegri, c'è stato un minimo di pressing offensivo, non corale, organizzato male, tant'è che poi siamo stati tagliati fuori, con semplicemente un'apertura di pegolo per il terzino sinistro, per il terzino sinistro, credo, del Sassuolo. E hanno trovato gli spazi poi centralmente, perché c'erano Arthur McKennie, i nostri attaccanti che pressavano, però la difesa non ha accompagnato col pressing. E Quadrado, ad esempio, che in quel momento era terzino, doveva pressare il terzino avversario. Se vuoi fare un pressing offensivo adeguato, con una squadra corta, perché così allora non serve niente un pressing del genere. E poi, appunto, ritornando su Morata, io gli ho dato 5,5, perché comunque il suo ingresso a livello tecnico non mi è piaciuto. E come dicevo, anche quando sbagliava a Manzuki, c'è tutti questi giocatori qua, e per tutti faccio un grande partito. Io sono ragazzo, sono molto critico, perché purtroppo qua, ieri, il giudizio, ho sentito 7, 7,5, 8, i giudizi voi li date a seconda del risultato. E così non si ragiona, così non si può ragionare. Vlavic, 7, 7,5, 8, per l'azione che ha fatto del gol. Cioè, ha fatto una partita a 4,5, ripeto, non solo per colpe sue, anche perché era isolato. Tant'è che, appunto, quando è stato messo Morata, per questo dico che è stato più che altro un cambiamento tattico, che, diciamo, tecnico dello stesso giocatore, perché Morata, mettendo Morata, ovviamente non gli chiedi, si spera di fare l'alle di centrocampo in fase di non possesso, quindi praticamente fa sempre il trequartista aggiunto insieme a Dybala sotto a Vlavic. Ieri, secondo me, ha fatto un pizzico più la seconda punta rispetto alla partita contro Verona. Però, Morata, ad esempio, rispetto a Vlavic è molto più bravo a pulire i palloni rispetto a Vlavic. Vlavic è molto più bravo magari a lottare fisicamente, anche se secondo me non è quel tipo di attaccante alla Lukaku, che credete voi, insomma, e magari è più bravo anche a attaccare a profondità centralmente. Però ieri Morata e Vlavic si sono trovati molto bene, come contro Verona. Cioè, secondo me, questi due giocatori sono complementari, ok? Insieme a Dybala, secondo me, deve essere questo il trio. Ovviamente non puoi giocare sempre, però comunque ci sono state delle triangolazioni che prima non avevamo visto. Morata e Vlavic, perché Vlavic dà magari punti di riferimento a Morata. Morata pulisce i palloni e Vlavic deve solo occuparsi, diciamo, di finalizzare l'azione. Basta. O comunque di stare in attacco. Perché senza Morata, con Dybala che è più distaccato da Vlavic e che non gli portano anche via gli uomini, a differenza di Morata, perché Dybala non attacca mai a profondità, fa solo da raccordo, ma comunque è molto distante da Vlavic, senza Morata, Vlavic deve anche occuparsi del pulire i palloni. E non è bravo a fare questo. Non è bravo a fare questo. E l'abbiamo visto già, non solo queste due prime partite con noi, ma già la frentina non era bravo a fare questo. Quindi ha bisogno di due, uno come Dybala e l'altro come Morata, che è più vicino magari a Vlavic, che puliscano i palloni dal posto suo e che Vlavic si occupi solo di fare la punta centrale. Fine. Fine. Ok, questo è quello che ci tenevo. Poi, ripeto, eh ma con questi giocatori puoi farlo, con altri giocatori no. Allora, allora, il grande allenatore è quello che comunque imbastisce un sistema di gioco proprio. Ovviamente, a partita in corso ci sta anche cambiarlo a seconda delle esigenze. Ma un sistema di gioco proprio, soprattutto nel calcio di adesso ci vuole tanta intensità e Allegri non sa neanche che cazzo sia l'intensità. E ci vuole, appunto, un sistema di gioco e un modo di giocare. Allegri ha sempre fatto della sua carriera l'adattamento rispetto all'avversario che si trovava. E così, se cambi A, sistema di gioco, B, modo di giocare ogni cazzo di partita, la tua squadra non giocherà mai a memoria. Per questo dico che fino a che avremo Allegri non vedremo mai quello che magari vorremmo vedere. Ok? Tutto lì. Perché non mi pare che Liverpool manca manè e cambia modulo. Metti Jota e stanno attacco e Firmino falso nove. Fine. Non mi pare che il City senza un attaccante o un esterno attacco cambi tutto. E lì deve trovare le giuste misure Allegri. Ma non mettermi in quadrado Ali di centrocampo insieme a McKennie dall'altra parte. Perché quello significa non capirci un cazzo. E non serve, come ha scritto qualcuno, allenare vent'anni. Per capire che c'è una grande differenza. Poi ieri, ripeto, abbiamo fatto, abbiamo creato il disastro nel secondo tempo. Perché avevamo l'acqua alla gola. Come sempre, Allegri non impara mai. È da dieci anni che non impara mai dagli stessi errori. Commette sempre gli stessi errori. Ed è questa un aggravante che ha Allegri. Perché se il Liverpool, una volta che segna, non si abbassa. E le Juventus e le squadre di Allegri in generale sì. Non è colpa dei giocatori. O non solo colpa dei giocatori. Credo che sia colpa principalmente dell'allenatore. Perché ieri è, ma pensavamo già a Bergamo. Sì, ma non mi pare che le altre partite, quando andiamo in vantaggio, le Juventus e le squadre di Allegri continuino ad attaccare fino a farne due, tre, quattro. Mi pare che molte volte siamo stati qua a dire Eh, Allegri trova il gol e poi abbassa la squadra. Quindi non è un caso. Cioè, fossimo stati sempre dominatori del gioco e delle partite e fosse successo solo ieri, avrei capito, avrei fatto anch'io sto discorso. Ma non è la prima volta. Non è la prima volta. Questa è l'aggravante di Allegri. Il modo di giocare. Eh, ma cosa ha vinto, come ho detto ieri, cosa ha vinto Sarri, cosa ha vinto Gasperini. Ma chi cazzo dovete, perché dovete paragonare lo, cioè, poi, ad esempio, no? Eh, sì, però hai visto Guardiola non ha vinto la Champions, ok. E poi, eh, ma cosa vuoi che faccia Allegri con i giocatori che... Allora, questo discorso qua, però valeva anche quando la Juventus è la squadra più forte del campionato. E quindi, magari, se fai quel tipo di gioco in maniera più propositiva, magari in Champions comunque non la vinci perché non sei la più forte, per carità. Ma in Italia, vinci, come vinto, ok? Ma vinci anche convincendo. Non dico divertendo, perché non mi piace usare... Ma convincendo. Essendo veramente una grande squadra a livello mentale. Perché molte volte abbiamo vinto campionati non essendo una grande squadra, come sta facendo l'Inter, di fatto. Ma non per i giocatori, basta, che mancavano. Proprio per il poco coraggio dell'allenatore e la mancanza di idee molte volte. Perché non credo che tu, qualora tu avessi tentato di fare un calcio più propositivo, con i movimenti senza palla, le triangolazioni, le sovrapposizioni, tu avresti perso lo scudetto. Perché eri comunque la più forte. E' quello che io dico. Cioè, eri la più forte, potevi, diciamo, divertirti, tra virgolette, come allenatore, come cazzo volevi, e invece sei andato sullo speculativo comunque. E allora sono colpe tue. E quando si dice, eh, ma per colpa di Sarri... Sarri avrà avuto le sue colpe sicuramente a livello gestionale e tante altre cose. Però Allegri ha rovinato a livello proprio mentale molti tifosi. E' anche il nostro modo di giocare, di non giocare. Perché ormai qua sembra che... O si difende o basta. C'è l'ossessione difensiva. Questa è ossessione difensiva. E' l'ossessione risultatista. Perché tutti, tutti i tifosi sono risultatisti. Ma ci sono modi e modi. Perché se uno è risultatista e dice, ok, va bene la vittoria, però ci sono tantissimi problemi che non mi fanno essere fiducioso per il futuro, è un discorso. Ma se uno dice, mi basta vincere, non importa come, ripeto, accendetevi il televideo. Guardatevi il televideo, non guardate le partite. E a seconda di cosa vedete, di che risultato vedete sul televideo, esultate o vi incazzate. Va bene? Non guardate le partite. Fine. Non guardatele. Perché sono tutti bravi a giudicare così a seconda dei risultati. Come i giudizi, come i voti che ho visto ieri. Perché se ieri non avessimo fatto quel gol con Vlaovic, cioè, malagoratamente fosse andata male i supplementari. Faccio un esempio con Vlaovic, con l'autogol. Eeeh, sì. Sette, otto, sì. Sì, sì. Poi purtroppo ci sono tanti pregiudizi, positivi o negativi, a seconda dei giocatori che piacciono. Questo è un discorso. E poi, ripeto, l'ingresso di Morata ha cambiato la partita? Sì. A livello tattico? Sì. Però stavamo spingendo già. Sono state altre le partite, secondo me, che a livello individuale Morata ha cambiato la partita. Ieri a livello tattico l'ha cambiata, sicuramente. Ma ha sbagliato tanto tecnicamente, secondo me. Come ha sbagliato Vlaovic. Poi è entrato Morata, Vlaovic ha trovato anche più spazi. Se vi ricordate, Vlaovic è un giocatore che deve anche lui attaccare gli spazi. È poco da fare. Non deve avere sette, otto giocatori, tre giocatori, due giocatori che lo marcano. Lui deve, a parte là, con Muldur, che comunque l'ha girato come, non so cosa, ma era un giocatore. Vlaovic deve trovare anche lui gli spazi, deve crearsi anche lui gli spazi. Deve avere uno che gli crei gli spazi. E Morata, sotto questo aspetto, è bravissimo. E Vlaovic è la stessa cosa, perché secondo tempo comunque ha fatto anche dei bei assist Vlaovic. E delle belle aperture rispetto al primo tempo che è stato penoso. Meglio secondo tempo che il primo, sicuramente. Soprattutto dopo l'ingresso di Morata. Sono dei giocatori che si completano. Avessimo un trequartista puro e non di Bara, probabilmente sarebbe perfetto. Però un grande natore non cambia sempre il sistema di gioco a seconda dei giocatori che ha. Perché non è che hai, cazzo, non metti un centrocampista al posto di Morata. È comunque quadrado. E quindi è un giocatore che è nato offensivamente. E se tu lo metti ala di centrocampo, soprattutto per fare sta roba, sposti McKennie dall'altra parte dell'ala, allora a questo punto preferisco mettere quadrado o trequartista al posto di Morata insieme a Di Valla dietro a Vlaovic. Cioè, a questo punto siccome è più sensato fare una roba del genere, piuttosto che snaturarmi McKennie, che poi viene massacrato dalla maggior parte della critica tra tifosi media, che avrà colpe sue sicuramente perché non ha azzeccato la serata. Poi, altra cosa, altra cosa. Purtroppo c'è un brutto vizio del tifoso, non solo Juventino, ma in generale. Sbaglio un giocatore che non piace. Ecco, l'ho detto, è finito, è un giocatore di merda, che cazzo di giocatore è, non è un grande giocatore, è un mediocre e quant'altro. Fa una partita buona? Vabbè, sì, ha fatto una partita buona, vabbè. Cioè, questo è il giudizio. Allora, o giudicate sempre partita per partita, o non è che poi quando sbaglia una partita, quando sbaglia una cazzo di partita, lo si condanna in generale e lo si vuole cazzare via. Come l'altra parte, se un giocatore fa bene, che piace, non è che si dice, ecco, grandissimo giocatore come ieri per Vlaovic, grande giocatore, grande giocata, che poi, buona giocata, non grande, grande giocata, eccetera, eccetera, eccetera. E poi quando sbaglia, vabbè, dai, ci sta. No. Questi non sono giudizi che a me piacciono. E non sono giudizi da conoscitori di calcio, secondo me. E non dico che io sono il messia del calcio. No, sbaglio pure io. E ve ne ho dette tante che ne ho sbagliate. Però qua, purtroppo, c'è poca coerenza. Questo è il discorso. Vabbè, le fasi di possesso ieri 4-4-2, le fasi di un possesso. Meccani si spingeva un po' di più. Di fatto rimanevano Zaccaria e Arthur, no? Zaccaria ieri non è che abbia fatto chissà che partita, però comunque di contenimento. Siccome o Zaccaria gioca a mediano in un centrocampo a tre, o gioca, comunque, siccome deve giocare in un centrocampo a tre. O mediano o mezzala. C'è poco a fare, perché mediano in un centrocampo a due, siccome lo limiti a livello anche di sgroppate. Boh, questo, se no, centrocampo a tre, comunque due e mezza. Io credo che comunque, come l'ha detto anche lui, come ha detto Allegri, Zaccaria ha presiopposto i bentacur. E purtroppo Zaccaria lo vede, siccome è come mezzala. Mi strappo. Poi, se farà bene, probabilmente potremmo anche pensare di non prendere quel tipo di giocatore a centrocampo, tipo un po' Guaunzac. Però, credo che, insomma, purtroppo Allegri anche là è rimasto indietro, perché vede per forza il regista davanti alla difesa, dove in un calcio nel quale nessuno lo vede più, praticamente a livello europeo, Rodri, Bosque, Fabinho, Casemiro, nessuno di questi è regista e lui vede ancora il regista. Tutti sono incontristi e lui continua a non vedere l'incontrista davanti alla difesa. A meno che quella volta del Mina che fece tre medianacci. Cioè, questo è Allegri, ragazzi. E quello che io ieri gli ho dato quattro e mezzo, perché purtroppo è un aggravante. Fa sempre gli stessi errori. E ripeto, in una partita di Coppa Italia, quando ne hai vinte quattordici, Allora, se tu vuoi vincere per forza, è un tuo egoismo, secondo me. È un tuo egoismo perché hai paura di chiudere l'anno senza titoli. Ma io, la Coppa Italia, soprattutto se ne hai vinte quattro, tu Allegri, io la Coppa Italia la uso per provare dei giovani. Poi qualcuno mi ha detto, Caio Giorgio ha fatto ritardo con la fidanzata, va benissimo. Ma ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Tre, quattro giovani li puoi provare. Dalle altre parti li provano addirittura in Champions. Noi non li proviamo nemmeno in Coppa Italia. Dai, insomma. Che cazzo vogliamo andare? Allegri, purtroppo, è un anti-giovani. Perché il giovane deve fare serie C, serie B, serie A con piccola, serie A con media e forse dopo la Juventus. Cosa, devono passare? Cinque anni? Cioè, uno deve arrivare alla Juventus a venticinque anni? Quando dalle altre parti li prendono a diciassette, ciotto anni? E se uno è bravo, è bravo. Se uno non è bravo, delude e viene scartato però dalla squadra nella quale è stato provato. Io voglio che falliscano con noi, non da altre parti. Io voglio testarli con la Juventus. Perché se uno ha la giusta personalità, la dimostra subito. Diciotto, vent'anni. Che poi tecnicamente può sbagliare e quant'altro, ci si può lavorare sopra. Il problema poi è il settore giovanile, come sempre, organizzato male, il settore giovanile si punta solo a vincere, non si punta con i suoi giovani, i giocatori. Arrivano in prima squadra che sono fisici, magari la maggior parte sono fisici, perché quelli tecnici e non fisici vengono scartati prima, giusto per farvi capire. Arrivano in prima squadra fisici, magari tatticamente anche un po' intelligenti, ok, ma tecnicamente molto grezzi. Perché non si è lavorato sulla tecnica del giocatore. Dalle altre parti, negli altri campionati europei, sì. Ed ecco perché vi dico che puntare sui giovani italiani qui in Italia è molto, molto, molto difficile. Bisogna andare a prendere i giovani dall'estero. Perché quando si dice puntiamo sui giovani italiani, il gioco d'oro italiano, no, perché prima di tutto siamo rimasti agli anni 90, 2000 in generale, mentre gli altri si sono evoluti. La seconda cosa è proprio perché non si costruisce la personalità del giocatore, la tecnica del giocatore e si punta solo alla vittoria anche nei settori giovanili e questo rovina i giovani, questo li limita. Cazzo. E se a Coverciano non capiscono questa cosa qui, se le società non capiscono questa cosa qui, sarà sempre peggio. E il divario tra noi e gli altri aumenterà. Perché non possiamo spendere 200 milioni per i campioni e allo stesso tempo non abbiamo il vivaglio all'altezza per competere con gli altri vivagli. Questa è la verità. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, scusate la durata del video, ma ci tenevo a dire un paio di cose. Sempre comunque fino alla fine Forza Juventus e ci vediamo ovviamente al prossimo video. E a Bergamo, mi dispiace, ma molti dicono, stanno già mettendo le mani avanti, l'importante è non perdere, no. A Bergamo l'importante è vincere, anche perché l'Atalanta è una partita in meno, ricordatevelo. E non è detto che la Juventus da qua in poi, con le partite in discesa, tra virgolette, le vinca tutte. Già Empoli, secondo me, è una trasferta insidiosa. Ciao a tutti.